Buongiorno, io sono Marius Serra, mi scuso per il mio italiano eterodosso. Io voglio di parlare di questo romanzo, il romanzo di San Giordi, che è un romanzo satirico criminale, è un assassino raffinato che vuole uscire gli autori di Vesel, dei più venduti alla festa dei libri e delle rose. L'assassino raffinato è contro l'espirito commerciale, eccessivo, di Veselerismo, di San Giordi, con mille e mille miliardi di catalani sono alla strada di Barcellona. Ah, ma quest'anno di San Giordi, di quest'anno, è stato come il sogno dell'assassino, perché noi non abbiamo uscito alla strada e San Giordi è stato confinato alla casa sul telefonino parlando gli autori. Io volevo leggere un frammento del romanzo di San Giordi, che è una spiegazione della festa di San Giordi, come è. È un piccolo estratto di San Giordi come si vive alla radio e perciò chi parla è un locutore di radio. E la traduzione di Beatrice Parisi per la Marcos e Marcos è questa. Sono le otto. Buongiorno, Catalogna! Vi salutiamo dal Palau Robert, da dove, a partire da ora, andrà in onda il programma speciale di San Giordi, il giorno più bello dell'anno. C'è una notte piena di attesa, soprattutto per i bambini, ed è quella dell'Epifania, e c'è un mattino pieno di emozione, ed è quello di San Giordi, soprattutto quando è un giorno feriale, è quando, come oggi, fa bello. Quando le persone vanno a scuola, all'università o al lavoro, e a un certo punto si concedono l'uso di staccare e di dire torno subito. San Giordi è la giornata mondiale del torno subito, che i bambini escano per andare a comprare una rosa alla mamma, che emergano dalle aule e si immergano tra le vancarelle di libri disseminate in tutto il paese. Oggi tutto vanno e vengono e tutti vogliono guardare. Che meraviglia un giorno come oggi! E' ovviamente la rosa, il fiore che simboleggia l'amore, il rispetto, il desiderio, l'affetto, la gratitudine, la compagna, la madre, la figlia, l'amore come simbolo con la rosa, l'amore come simbolo con il libro. Oh, che programma ci aspetta oggi! Davanti alla folla che riempirà questa sedie, che cominciano a essere molto richiesta dalla gente che già a quest'ora ci segue qui, nei giardini del Palau Rouvert di Barcellona, dove ci verranno a trovare tantissimi personaggi locali e stranieri, mille nomi propri che cominciano proprio adesso, dopo la sigla, sono le otto e due minuti. Benvenuti a San Giordi! Io spero che in il futuro San Giordi sarà così, non come nella mente dell'assassino del romanzo di San Giordi, che vuole abolire San Giordi come un virus, come un Covid-19. Buon San Giordi!